eccoci qua buongiorno a tutti e benvenuti anche oggi in questo webinar gratuito che facciamo sui miei canali per parlare delle novità di Microsoft 365 e di tutte le soluzioni che girano intorno a questa piattaforma io sono Giuseppe grazie ancora per essere qua vedo che oggi siamo veramente una marea mi fa molto piacere vi ricordo che il webinar è dal vivo e quindi sfruttando le chat che avete su YouTube su LinkedIn oppure sul nostro sito c'è un'iconcina per accedere alla chat o sugli altri social potete fare qualsiasi domanda ok approfittiamone perché visto che siamo tutti insieme e secondo me è meglio insomma che prendiamo un po la cosa interattiva senza che io faccio due palle così a tutti e grazie ancora per essere qui 155 158 benissimo sta salendo il numero alla velocità della luce oggi parliamo di Microsoft 365 Copilot e vediamo per bene oggi insieme come funziona quindi basta registrazioni basta video di Microsoft basta documentazione vediamo direttamente come funziona devo dire la verità anche qualche slide perché mi è utile spiegare un po l'architettura pronto engineering c'è anche qualche slide sul proprio engineering secondo me è molto utile allora faccio un giro di buongiorno buongiorno Angelo buongiorno Alessio buongiorno Ima buongiorno Massimo buongiorno Davide buongiorno Valentina ce ne sono un sacco buongiorno a tutti non riesco a a farli vedere tutti oggi 180 wow ciao FA allora rispondo una domanda subito di Valerio buongiorno webinar sarà registrato e disponibile successivamente assolutamente sì lo potete trovare o su intranet.ai o sul mio canale youtube iscrivetevi al canale youtube perché così vi arrivano anche le notifiche di tutti gli altri video ok benissimo direi di iniziare quindi con il primo capitolo ok quindi vediamo subito insieme che cos'è copilot prima di spiegarvi e vedere tutti insieme diciamo quello che è questa nuova soluzione di Microsoft 365 che sta veramente sbaragliando il mercato ok volevo fare un piccolo sondaggino perché siamo in tantissimi di nuovo buongiorno a tutti 191 grazie ancora per essere qua e volevo capire un po a che punto siamo nel senso che copilot è disponibile dal primo di novembre e all'inizio c'era questo vincolo no di acquisto dei 300 utenti per cui sai all'inizio l'hanno adottato veramente poche aziende ma dal partire dal 15 di gennaio quindi qualche settimana fa adesso copilot è disponibile per tutti per tutti per tutti dico proprio tutti nel senso sia privati che aziende sia aziende grandi con le Microsoft 365 e 3 e 5 con le office 365 e 3 e anche le piccole e medie aziende quindi le chi ha le Microsoft 365 business premium standard e così via ok e volevo capire un po come sta andando è o 10 già vedo che state rispondendo vedo tanti sì questo mi fa piacere perché vuol dire che insomma siete già sul pezzo e lascio attivo il sondaggio ok perché da una parte sapete che lo streaming è un po è un po in ritardo rispetto a quando io parlo cioè arriva a 20 30 secondi di ritardo a voi e non vorrei star qui insomma aspettare tutte le 205 risposte dei 205 partecipanti a cui siamo arrivati ora e quindi vado avanti però lo tengo lo tengo aperto mi farebbe piacere capire continuare a capire quanti di voi lo stanno utilizzando e chi non lo sta utilizzando qual è il motivo ok e benissimo detto questo direi di iniziare un po copilot di fatto è diciamo un nome di un brand ok nome di un brand che Microsoft sta mettendo veramente dovunque e quello di cui parliamo oggi è il copilot per Microsoft 365 c'è poi copilot su edge c'è copilot per windows c'è copilot per la parte sales su dynamics c'è copilot per viva ce ne sono un po anche per power bi molto carino per i dati e detto questo dobbiamo come come vi dicevo prima dobbiamo sapere che dal 15 gennaio copilot veramente disponibile per tutti senza più vincoli quindi quel vincolo di cui vi parlavo prima delle 300 licenze non esiste più ne potete comprare anche una non c'è la trailer ancora ma di fatto dal 15 gennaio andate dal vostro partner o sul marketplace di microsoft tramite admin punto microsoft.com potete acquistarne anche una e di fatto di cosa si tratta quando si parla di maxo 365 copilot si tratta fondamentalmente della nuova tecnologia di microsoft che ha integrato i modelli di intelligenza artificiale di open ai che è l'azienda che ha fatto c'è a gpt famosissimo e li ha messi all'interno della nostra produttività quotidiana quindi nei tool di office quindi possiamo usare copilot in teams copilot in powerpoint copilot in excel copilot su outlook in word e in tanti altri c'è one note c'è pure loop e così via e che cosa mi permette di fare sfruttando quello che è il mio linguaggio naturale quindi scrivendo una sorta di chat posso interagire sia con le funzionalità e i dati che io vedo all'interno di una di queste applicazioni quindi per esempio su word posso aiutarmi nella scrittura di un documento ok usando le mie parole oltre a questo quindi oltre interagire con le applicazioni di office eccetera posso anche interagire con i dati aziendali e questa è secondo me la la cosa più utile perché copilot in grado di leggere le mie mail il mio calendario documenti in cui ho accesso chiaramente mantenendo sempre il mio cono di visibilità cioè non è che riesco a cedere a cose a cui non accesso non ho accesso normalmente chiaramente e a darmi risposte in modalità conversazionale ed è qui che vengono sfruttati questi large language model che sono nati da cagpt e che ci permettono insomma di interagire magari con un documento word o con un powerpoint però in maniera conversazionale con le mie parole microsoft dice proprio adesso con copilot le tue parole diventano lo strumento di produttività migliore in assoluto e tutto ciò è fatto chiaramente seguendo i principi di sicurezza compliance privacy e utilizzo responsabile delle ai di microsoft perché tutto quello che dite copilot in microsoft 365 rimane nel vostro microsoft 365 quindi non viene dato a terze parti non viene usato per analisi soprattutto non viene usato per trenare i modelli di intelligenza artificiale sapete che l'intelligenza artificiale ti adesso le hai generativa funziona molto bene perché è stata allenata su veramente tanti 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 dati si parla di aver letto internet fondamentalmente e però state tranquilli che i vostri dati non verranno dati in pasto all'algoritmo di intelligenza artificiale ok punto numero due compliance perché come dicevo prima tutto quello che sono gli accessi permessi che avete dato i vostri dati rimangono tali e quali fondamentalmente con copilot è come se ci fosse un secondo voi che fa le operazioni di ricerca per voi o le operazioni di non so cambio del tono in una mail e tanto altro al posto vostro però sempre con il cono di visibilità che avete voi vedo che c'è una prima domanda di marco per i piccoli partner microsoft non sono previste licenze da riscattare per test approfondimenti etc come ad oggi no ad oggi no non ci sono licenze per i partner quindi acquistarne almeno una deve acquistare marco e benissimo vediamo quindi effettivamente come funziona microsoft 365 copilot ok e vorrei partire un po da quello che diciamo che secondo me è uno dei tool assieme a teams su cui ci si può sbizzarrire di più che è word ok vi condivido il mio desktop ho aperto word client vi volevo far vedere qual è il punto da cui diciamo si parte per interagire con copilot in questo caso il mio caso d'uso è devo scrivere un documento da zero e voglio farmi aiutare da copilot per scrivere qualcosa quando parto con un nuovo documento da zero copilot è già aperto se ho la licenza chiaramente in alternativa posso chiuderlo e ogni volta che scrivo qualcosa vado in un paragrafo ce l'ho l'icona qua sulla sinistra quindi direttamente all'interno del mio documento questa si facciamo un'esperienza in app cioè all'interno dell'applicazione ok vedremo poi che c'è una seconda esperienza di interazione con copilot che è legata alla al fatto di utilizzare un punto unico che è la chat di copilot dove io posso interagire con i miei file le mie chat e fare domande su questi contenuti l'altro punto in word e nelle altre applicazioni di office di accesso a copilot e questi con cina qua sua in alto a destra se ci faccio clic sopra vedete che mi appare un pannello sulla destra dove di fatto copilot mi permette di fare attività ok in generale copilot funziona o con prompt liberi che adesso non vedete ma eccoli qua oppure oppure con pulsanti ok che mi aiutano ad utilizzare un certo tipo di prompt il prompt il modo in cui noi chiediamo una cosa a copilot oppure lì lanciamo un'azione ok quindi quello che posso fare in questo caso è iniziare a creare una bozza con con copilot in questo caso io gli chiedo scrivi un annuncio di lavoro per la posizione di sviluppatore ok un prompt leggero leggero molto vago però per farmi aiutare a dallo strumento a generarmi un annuncio di lavoro e questo secondo me è una delle cose di base che dobbiamo capire cioè il tempo che uno strumento del genere ci fa risparmiare durante la nostra operatività pensiamo quindi una persona di risorse umane che deve fare iniziare la sua ricerca con una frase di 10 15 parole si è già fatta fare generare no un documento completo detto questo copilot innanzitutto mi dice una cosa che è molto utile tolgo il banner così che vedete tutto quanto e vedete anche che siamo dal vivo eh non dico cavolate e la prima cosa che ci dice copilot è che attenzione quello che viene generato dall'intelligenza artificiale deve essere ricontrollato ok può non essere corretto e questa è una informazione fondamentale una delle buone pratiche di utilizzo di copilot ma in generale di tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale generativa è quella di verificare sempre in continuazione il contenuto che viene prodotto da lei ok punto numero due lui mi dà un po di opzioni mi chiede il testo che ti ho scritto ti va bene e lo puoi tenere oppure con questi concina qua lo puoi rigenerare oppure ancora lo puoi cancellare e fin quando è con questo sfondino blu di fatto puoi fare azioni perché non è stato un contenuto che è stato confermato e quindi inserito all'interno del contenuto del mio file word è incredibile allora ho raggiunto il limite degli spettatori ammessi non mi era mai capitato in vita mia 250 siamo in 266 mi dispiace mi dispiace se mi hanno superato questo limite non me l'aspettavo per chi è fuori rimasto fuori poi si vedrà questa registrazione e bene in più c'ho anche diciamo questa in questa parte qua di testo dove io posso aggiungere altri prompt e questo secondo me è di grande valore perché in questo caso vedi lui mi ha dato un primo risultato io posso dirgli siamo un'azienda molto nerd fai questo annuncio in maniera più informale quindi gli do un secondo prompt lui che cosa fa in questo caso prende il risultato del primo prompt ci aggancia il secondo prompt quindi la mia seconda richiesta e dà in passo queste cose all'algoritmo di intelligenza artificiale e lui mi darà il risultato ok intanto che genera vedo qualche domanda allora mattia acquistando una licenza la stessa utilizzabile in qualsiasi programma all'interno dell'emisfero 365 di cui licenza va comprato per ogni strumento no allora Microsoft 365 Copilot è una licenza unica che va aggiunta alle licenze che già avete quindi un add-on e poi funziona con questa licenza unica funziona su teams outlook word powerpoint excel one note e loop per ora questo è il giro se nel tempo integra altri strumenti moduli Microsoft viene integrato automaticamente se ho la licenza assolutamente sì al netto diciamo di come dire di dei prodotti che Microsoft integra con con Copilot ok bene nel frattempo lui mi ha mi ha fatto un po diciamo la 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 modifica e vedete qui è carinissimo mentre prima le tue mansioli no erano scritte in maniera più formale eccetera in questo caso mi ha scritto sei un fan di C sharp e vuoi utilizzare il suo super potere per creare applicazioni fantastiche piacerebbe entrare in un team di nerd come te eccetera eccetera quindi la modificata secondo il mio il mio prompt molto carino vediamo un paio di domande allora la lingua di interrogazione del comparto dipende dal preferenze utente no la lingua diciamo è proprio parte della del prompt quindi tu puoi fare dei prompt nella lingua che vuoi basta che stai nelle otto lingue che sono supportate ad oggi in Copilot ci sono otto dopo possiamo vedere anche la documentazione assieme se volete e poi altra domanda Vittorio è compreso in office professional e no purtroppo no perché office deve essere all'interno del pacchetto di Microsoft 365 quindi vanno bene dopo vediamo i requisiti bene c'è uno slide apposta e per la lingua hai dovuto fare una configurazione e sì nel senso che se diciamo vuoi utilizzare Copilot una certa lingua devi fondamentalmente andare su sulle opzioni del tuo profilo e configurarti la lingua che vuoi su Microsoft 365 e soprattutto la lingua dell'interfaccia di office così che tutti questi pulsanti che da me vedete sono in inglese e diventano nella lingua che volete come vedete però anche se tutti i pulsanti sono in inglese io ho potuto fare dei prompt in italiano lui ha capito che io volevo un contenuto in italiano e mi ha dato il contenuto in italiano ok bene faccio un'altra domanda come si effettua l'integrazione di Copilot su Word è di default basta comprare la licenza e si abilitano questi pulsantini di cui abbiamo parlato prima anche whiteboard hai ragione Cesare me la sono dimenticata anche whiteboard assolutamente sì Marco 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 utile per poter simulare utilizzo di Copilot per M365 è relativa alla risposta di prima allora di nuovo per installare Copilot bisogna pagare un extra costo oltre a quello della licenza e poi lo guardiamo lo guardiamo insieme all'interno delle pagine di Microsoft così che non ci sbagliamo ok sono andato in quello americano però vi faccio vedere quello italiano eccolo qua se andate un po' più in giù eccolo qua adesso costa 28,10 in realtà sembrava che Microsoft lo lanciasse in Italia a 29 euro utente mese invece alla fine 28,10 euro utente mese sempre da aggiungere in aggiunta a quelle che sono le licenze Microsoft 365 che già avete ok ok ho visto che non ci sono più domande vado avanti un'altra funzionalità molto molto carina di utilizzo di Copilot in Word è la parte di ricerche ok prendiamo diciamo un documento qualsiasi in questo caso è un regolamento aziendale quindi già scritto se faccio clic sull'iconcina qua a destra posso fare delle domande sul documento tipo fammi il summary oppure facciamo tutto in italiano un riepilogo di questo documento scrivi un massimo di 10 punti così sono stato più preciso possibile in questo caso vedi cosa sto facendo sto interagendo con l'intelligenza artificiale che leggerà il contenuto di questo documento e mi creerà un summary un recap del documento questo è l'esempio classico infatti vedete c'è anche tra i bottoni che mi propone Copilot però tranquillamente insomma io qua posso fare tutte le domande che voglio ovviamente qua occhio a valutare bene diciamo che cosa state facendo con che file state interagendo perché questo è un file vedete di 25 pagine e comunque le hai per leggerlo in tempo reale un po' ci mette e quindi occhio diciamo a tendere diciamo il giusto tempo per farvi generare la risposta e così via vedete in questo caso ci sta mettendo un po' io ci sto chiacchierando sopra nel frattempo che genera rispondo a una domanda posso utilizzare Copilot per ricercare info e documenti presenti all'interno del SharePoint la risposta è sì poi dopo lo vediamo e questo è il summary ok facciamo un altro esempio quali sono gli orari di lavoro sono spiegati in questo documento e lui che cosa farà cerca diciamo in questo documento tutte le informazioni legate alla keyword l'orario di lavoro e mi darà l'informazione nel frattempo ecco io lo cerco eccolo qua così vediamo un po' il risultato in tempo reale intanto rispondo a un'altra domanda allora c'è un limite al numero di pagine che può analizzare e non lo so non lo so i limiti in generale di Copilot sono quelli legati al modello di AI che c'è sottostante Copilot per Microsoft 365 usa GPT4 e 4 Turbo ok che hanno 16.000 token adesso non me lo ricordo bene però tanti e devo dire la verità che poi Microsoft non è che diciamo il contenuto di un documento lo dà tutto in pasto come un unico prompt ma lo dividerà in chunk quindi in pezzettini e quindi non te lo so dire se c'è un limite io ho provato documenti anche grandi più di 100 pagine e per ora funziona non sono andato oltre le 100 poi se volete fare una prova voi me lo potete far sapere in questo caso vedete il prompt lui mi ha generato una risposta la risposta è stata presa di fatto da questo capitolo però molto carino adesso fammi scorrere un po' più in basso vedete che lui fondamentalmente mi ha detto tutti i punti del documento da cui ha recuperato queste informazioni e se ci faccio clic sopra vedete che lui mi porta esattamente nel punto del documento dove c'è questa informazione e quindi fare domande al documento secondo me è una roba fantastica anche per ricercare più facilmente informazioni in documenti lunghi poi qui posso sbizzarrirmi veramente perché posso chiedere anche di generare del contenuto non solo aiutarmi a fare delle ricerche per cui mi posso chiedere generami delle FQ generami un sommario eccetera eccetera ok e questa è un po' la prima esperienza di cui volevo parlare guardiamo invece la posta ok quindi Outlook in questo caso su Outlook abbiamo quattro funzionalità macro funzionalità devo dire che è quello che secondo me ha meno funzionalità di tutti per ora poi Microsoft 365 Copilot è appena stato rilasciato ci aspettiamo una roadmap di novità che secondo me sarà lunghissima per anni e anni la prima è l'epilogo l'epilogo che cos'è ci permette tramite questo pulsantino di chiedere un recap la generazione di un recap in forma conversazionale basato sulla mail che io sto leggendo o sul thread di mail che io sto leggendo vedete che in questo caso questo è un thread fatto da quattro mail una, due, tre questa qui che ho aperto e quattro io che ho risposto e quindi il caso d'uso qual è? io vengo messo dentro a un giro di mail molto lungo oppure devo rispondere a una mail della scorsa settimana molto lunga senza rileggermi tutto chiedo un riepilogo in questo caso vedi lui dice Roberta ti ha ricordato che la scadenza per il progetto gamma bla 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 e ti dà sempre il riferimento alla mail che parla di questa cosa mostra il messaggio e te lo fa vedere qui sotto poi tu hai risposto che stai monitorando quindi ti fa un riepilogo ok? questo è secondo me estremamente utile tra l'altro l'ho visto funzionare molto bene su anche casi pazzeschi cioè una mail unica no? come per esempio questa io ho chiesto riepilogo lui ha recuperato tutte le informazioni sullo stesso argomento ok? scambiate tra me e la persona di questi mail ma anche in altre mail e quindi nel riepilogo mi ha messo anche le informazioni delle altre mail questo secondo me è veramente pazzesco veramente pazzesco e quante domande allora è possibile avere registrazione? abbiamo detto di sì lo trovate o su internet o sul mio canale youtube e Antonio l'integrazione tra Copilot e Outlook sono disponibili anche mediante Outlook client o solo web? allora bella domanda perché uno dei prerequisiti per Outlook è quello di dire è questo Copilot per Max 365 in Outlook funziona sul web e funziona sul nuovo Outlook il nuovo client di posta quindi fa qua e noi nei nostri programmi di adozione proponiamo anche la formazione per gli utenti per passare dal vecchio client Outlook al nuovo perché se no non lo puoi utilizzare ok ottima domanda Andrea dice ha scritto che venerdì non puoi ha integrato anche info dal calendar no nel riepilogo no non le integra e devo dire anche che sarebbe stato buono che le integrasse nell'altra funzionalità cioè di scrittura delle bozze con di mail con Copilot che si vede facendo click qua su bozza con Copilot oppure in questi con cina qua su in alto bozza con Copilot in questo caso questa è un'altra delle funzionalità di Copilot in Outlook io posso farmi aiutare no da Copilot per fare il drafting delle mie mail in questo caso ho preparato qualche esempio vi faccio vedere scrive una mail in cui propone di schedulare un meeting per vedere i tuoi prodotti i prodotti di internet hai e lui capito usando il tono e lo stile che io ho specificato all'interno di questa maschera mi fa una prima bozza questo è utile per risparmiare tempo per scrivere le mail devo dire che io la uso poco perché mi piacerebbe di più o meglio uso le funzionalità di Copilot che interagiscono con i miei dati per poi produrre una mail un po' più ricca in generale quando fate una bozza con Copilot qua su questi concini potete scegliere il tono e la lunghezza di default è diretto corto io di solito consiglio di mettere almeno un medio e poi il tono decidete come volete una volta fatta questa selezione di fatto rimane per tutte le bozze che chiedete e in questo caso se io scrivo una cosa del genere scrivi una mail per Andrea e proponigli i primi tre slot disponibili nel mio calendario io mi aspettavo che mi risolveva questo problema che io ho quotidianamente per dare slot sul mio calendario in realtà purtroppo non lo fa e questo secondo me è una delle mancanze di Microsoft 365 Copilot per Word perché vedete mi ha messo tre slot possibili 15 marzo 16 marzo 18 marzo ma se andiamo sul mio calendario sul calendario di quest'utente è un calendario completamente vuoto quindi poteva anche dirmi non so l'otto mattina il nove mattina febbraio invece non si sa perché è andato direttamente a marzo no in realtà si sa perché questa funzionalità di Outlook con Copilot ancora non interagisce con il calendario però c'è un però c'è modo di fare queste integrazioni usando la chat e dopo lo vediamo ok un po' di domande Michelangelo funziona anche se ho il thread attivo o si basa anche sull'oggetto in che senso il thread attivo questo non lo so diciamo il riepilogo si basa su quello che vedi e anche su contenuto e destinatari della mail lui riesce a capire se ci sono altri mail che parlano di questo stesso contenuto guardando il titolo e guardando diciamo i destinatari chiaramente lui va un po' per argomento quindi non è detto che magari il marasma di mail che avete nella vostra posta riesca a beccare esattamente tutte le mail ok poi Ismail si può personalizzare le funzionalità di Copilot nell'ambiente Microsoft 365 ad oggi no cioè l'unica personalizzazione che possiamo fare è cambiare il prompt cambiare il modo in cui noi chiediamo le cose a Copilot Edoardo nei repiloghi del 3 da volte viene usato l'italiano a volte l'inglese a prescindere dalla lingua utilizzata nella conversazione e sì questo è un punto importante l'ho visto anch'io in generale dovete diciamo configurare la lingua del vostro Outlook del vostro Word eccetera nella lingua con cui volete interagire con Copilot perché quella comunque è la lingua che viene presa come come base per fare sia le interazioni sia per avere le le risposte da Copilot molto importante e devo dire anche che quando sei nella condizione in cui sei tu a dare un'informazione quindi non nel riepilogo come abbiamo visto adesso ma quando sei tu a dire un prompt tu gli puoi anche dire rispondimi in inglese rispondimi in italiano e così via e lui lo fa sempre Antonio vengono analizzate anche eventuali meno legate non lo so bisogna provare se provi fammi sapere perché ancora non l'ho provato il prompt si dà solo in forma scritta con comando vocale per ora solo in forma scritta ok andiamo avanti vediamo un'altra delle funzionalità di Copilot per Office che per Outlook che a me piace di più che sono le risposte vedete qui c'è un'ultima mail a cui vabbè io ho già risposto però voglio rispondere ancora faccio reply quando faccio reply sotto il testo della mail appaiono dei pulsanti pulsanti che vengono generati da Copilot in base al contenuto dell'email e che mi aiutano a dare una risposta rapida cioè lui mi sta chiedendo se vuoi fissare una una riunione per mercoledì o venerdì lui ha letto il contenuto di questa mail e mi ha proposto dei prompt fondamentalmente quindi accetta mercoledì chiedi scusa per venerdì proponi un altro giorno declina entrambi oppure posso fare click su custom e quindi ripartire con la scrittura di un nuovo messaggio ok devo dire che questi primi tre io lo uso nella quotidianità cioè mi propone dei pulsanti che sono utili la maggior parte delle volte in questo caso vabbè se scrivo accetta mercoledì e scusati per venerdì vedi lui mi genera una risposta dicendo grazie per la tua risposta accetto con piacere l'appuntamento per mercoledì mi dispiace ma venerdì non posso partecipare e spero che non crei problemi quindi mi ha dato una risposta che io volendo posso mantenere inviare e con due click ho fatto tutto ok questo è un po' il concetto di risparmio del tempo di utilizzare Copilot all'interno dell'email ok un'altra domanda allora Fabrizio Copilot interagisce anche con l'inserimento contatto o importazione contatti in Outlook no ancora no Angelo ahimè sono riuscito solo ora a collegarmi non ti preoccupare perché il webinar viene registrato lo puoi trovare su internet oppure sul mio canale youtube poi Claudio ho visto che tra gli add-ins di M365 ci sono componenti gratuiti che fanno riferimento al Copilot vale la pena installarli no perché di fatto Copilot diciamo quello vero ha la licenza quindi se lo vuoi utilizzare devi comprare la licenza senza guardare il resto bene un'altra funzionalità che è presente in Copilot è quella del coach questa mi piace che molto spesso mi frena nella scrittura di mail sai un po' troppo focose prendiamo questa ho scritto Andrea ti scrivo per l'evento di martedì il prossimo anno dobbiamo rivedere la modalità del nostro intervento perché così abbiamo fatto una fatica mortale quindi di fatto è una mail in cui io mi lamento di qualcosa se faccio click ancora non l'ho inviato se faccio click qua nell'icona posso chiedere a Copilot di farmi il coaching coaching lui fondamentalmente che cosa fa guarda il contenuto del mail che ho scritto lo diciamo lo analizza e poi mi dà dei suggerimenti su tre macro categorie che adesso le vediamo una è il tono quindi ti valuta il tono l'altra è il sentimento del lettore cioè cosa pensa la persona che riceverà questa email e poi la chiarezza sul tono mi ha detto guarda sembra una mail il tono dell'email sembra un po' irritata e scontenta e ha ragione e mi dà anche dei suggerimenti ok per rendere diciamo la mail un po' più positiva poi sentimento del lettore guarda la mail non comunica chiaramente quali sono le tue aspettative per il prossimo anno ha ragione io sono stato troppo diretto e allora mi dà dei consigli chiaramente io li posso accettare oppure no a far mio chiarezza la mail non specifica di quale evento si tratta incredibile e magari puoi aggiungere informazioni e ti dà degli esempi secondo me questa è una buona funzionalità insomma per farci dare una mano nella scrittura delle nostre email ok Lorenzo ciao Lorenzo allora hanno fatto alcune integrazioni di copilot anche con il client di Outlook al momento solo riepilo che ti soppi stendendo anche il resto inizialmente sembrava che sarebbe stato disponibile solo per la versione monarch di Outlook ma allora ripeto quello che ho detto prima copilot per Outlook è disponibile solo se usi il nuovo Outlook se non lo usi non c'è il nuovo Outlook è di fatto è un po' come se fosse Outlook web incastonato in un'applicazione client quindi chi nel tempo ha seguito i nostri consigli di passare da Outlook web questo passaggio è inutile soprattutto indolore chi non l'ha fatto si deve beccare il passaggio e per questo come vi dicevo nei nostri programmi di adozione noi aiutiamo i clienti a fare questo passaggio da Outlook client verso Outlook web bene detto questo passerei a PowerPoint PowerPoint facciamo una nuova presentazione vuota ok così vi faccio vedere un po' che cosa si può fare con copilot su PowerPoint anche con PowerPoint ho sempre l'icona qua in alto a destra per accedere allo strumento e posso fargli domande in questo caso io gli dico crea una presentazione per presentare no per introdurre il concetto degli OKR in azienda invio quindi con un prompt di 15 parole ok mi sono fatto generare adesso me lo genererà un PowerPoint completamente da zero e lui in questo caso sceglie contenuti immagini layout da applicare al mio PowerPoint eccolo qua di default mi fa qualche slide non troppe ha scelto lui il layout a sua diciamo a sua scelta chiaramente poi una volta che ho il layout posso usare il designer per farmi diciamo generare la versione più bella insomma di questa slide è lo stesso di questa un po' più carina fatta così e vabbè la funzionalità del designer immagino che le conosciate fatto questo che cosa posso fare mi posso dire guarda c'è questa immagine che non mi piace proponi una nuova immagine e qui posso solo dirgli di cambiare immagine non gli posso dire guarda cambia immagine metteci una con il cane che ha un osso in bocca no posso solo dire propone una nuova immagine e lui me ne inserisce un'altra ovviamente il contenuto qua da dove viene preso viene preso dalla conoscenza che l'algoritmo di intelligenza artificiale ha già ok perché come vi dicevo prima questi large language model sono stati trainati leggendo da internet fondamentalmente e hanno già una loro conoscenza quindi se gli chiedi qualcosa sul framework degli OCR che sta per objective and key results per gestire gli obiettivi e lui è l'informazione che ha e quindi ti dà questa informazione e quindi poi posso dirgli guarda va bene gli ho detto di cambiare una slide adesso gli dico di aggiungere una una slide una nuova slide con gli esempi di OCR per il marketing e lui fa gli esempi ok e mi aggiunge la slide e tra l'altro mi ha fatto anche una bella immagine nel contesto cioè nel contesto dell'argomento di cui io gli ho chiesto di generare la slide un altro esempio è aggiungi una slide senza virgolette con l'agenda della presentazione lui legge la presentazione e mi fa una slide con i punti che io posso mettere come prima slide come vi dicevo il layout l'ha scelto lui c'è anche l'opzione di far generare copilot nuovi deck powerpoint sfruttando template aziendali che così diciamo nessuno si sbaglia a scegliere il brand giusto template giusto e così via il contenuto come vi dicevo è proprio dato dal contenuto della presentazione e poi gli posso chiedere guarda fammi una slide per le domande risposte a fine presentazione e lui me la genere e come vedete con 4-5 prompt riesco a avere già una bozza di una presentazione pronta all'uso se poi voglio mettere diciamo Q&A eccolo qua se poi voglio invece creare una presentazione powerpoint a partire da un contenuto aziendale ok posso farlo senza alcun problema vediamo come intanto orca misera quante domande allora non riesco a tradurre Ale non riesco a tradurre tutte le slide in inglese mi ha suggerito di usare translator ma si deve fare slide per slide esiste un prompt per farlo allora ci abbiamo provato anche noi a dire traduci tutte le slide in una lingua però è una funzionalità che ancora non fa quello che ho visto funzionare è vediamo un po' no forse qua non ce l'ho usano applica il font times new roman in tutte le slide questo in teoria dovrebbe funzionare dico in teoria perché l'ho visto funzionare una volta ma tante altre no e allora vabbè facciamo una prova e no vedi in questo caso l'ha fatto e dice guarda ok grazie l'ho fatto e in effetti vai qua questo è in times new roman qua ha messo tutto in times new roman e così via questo è utile no perché così io da un punto unico cambio il font di tutte le slide eccetera la traduzione ancora non la fa però ho visto fare questo cioè vediamo se funziona traduzi il testo selezionato in inglese un po' perché tempo fa l'ho fatto e no vedi no ti dice guarda usa il translator a fare i tuoi e la cosa carina è che ti dà questo show me questo pulsantino qua che ti fa vedere se lo clicchi dov'è la funzionalità all'interno della ribbon di in questo caso di di powerpoint ok e Simone da dove pesca tutti i layout di powerpoint come vi dicevo li sceglie lui da quelli disponibili in powerpoint però se vuoi puoi mettere quelli aziendali ok come si fa a mettere il a farli usare il template quello aziendale c'è la documentazione di microsoft l'ha trovato online è molto molto semplice e Maria ma può generare anche dei form di forms e copilot no però forms ha in generale delle funzionalità di ai che ti aiutano a scrivere le domande sono già disponibili le puoi vedere iniziando a scrivere il 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 form fondamentalmente e alessandra salve sono arrivati in ritardo sì assolutamente registrato su internet ai oppure sul mio canale youtube su powerpoint la versione italiana non è ancora disponibile claudio la versione di che cosa perché copilot c'è in italiano anche su powerpoint quindi ti consiglio di darci un'occhiata ok bene facciamo un altro esempio sempre su powerpoint perché avete visto io ho fondamentalmente adesso generato un una presentazione una presentazione powerpoint da zero sfruttando la conoscenza che l'algoritmo di ai ha già che è utilissimo voglio fare voglio introdurre non so l'argomento della sostenibilità lo chiedo lui mi fa un draft ovviamente non mi fa un draft completo però è una cosa da cui io posso iniziare facciamo invece l'esempio quindi facciamo un nuovo file blank e apro sempre copilot in questo caso io voglio farmi diciamo generare no un un powerpoint partendo da un documento in questo caso vedete io ho il documento demo regolamento aziendale che è quello che avete visto prima in questo caso come posso fare posso fare tasto destro one drive copia link mi copio il link del mio documento che ho messo in one drive lo devo mettere in one drive se no non funziona lui me l'ha copiato al che posso dirgli crea una presentazione partendo da questo documento e gli incollo il link un po' brutto da vedersi devo dire la verità però funziona in questo caso lui che cosa fa legge il documento lo analizza equivale a quello che vi dicevo prima più è grande il documento più sarà lungo il processo lo analizza recupera i principali argomenti e poi mi genera le slide ok intanto che genera perché qui ci vuole un po' rispondo a qualche domanda allora in Excel è disponibile la versione di Copilot? sì è disponibile però in preview ed è diciamo non con tantissime funzionalità oggi non la guardiamo perché la preview a volte funziona a volte no e non c'ho voglia insomma di star qui a vedere le robe che non vanno e mi sono perso qualche minuto avete già parlato di Excel? no ma non ne parleremo perché come dicevo adesso Excel è in preview e non non volevo farlo vedere perché a volte va a volte no e poi è molto limitato di funzionalità quindi però nel senso avrà un diciamo un utilizzo pazzesco di Copilot in Excel ti fa l'analisi dei dati che vede in tabella cioè ti fa propone lui un'analisi fantastico e altra domanda Patrizia il documento deve essere per forza su OneDrive oppure potrebbe essere risiedere anche su SharePoint anche su SharePoint Patrizia assolutamente basta che sia sul cloud di Microsoft Ale allora quindi se voglio fare il contrario cioè da una presentazione ricavare un documento Word devo partire da Word e copiare il link del PPT in questo caso allora su Word riapriamolo facciamo un nuovo un nuovo documento in questo caso su Word non c'è bisogno che incollo il link ma posso referenziare un file no e quindi posso dire genera genera una proposta per un nostro cliente basandoti sui prezzi che vedi nel file e poi fai reference a file in questo caso io ci posso mettere demo inglese esatto questo qua italiano e quindi gli ho detto do vai qua e qua sei un po' impallato fammi vedere un po' vediamo un po' che trovi oh mamma mia che trovi nel file e poi possiamo fare il reference di un file io dico demo non inglese ma italiano vai e no questo non me lo fa e in questo caso non è che non funziona ma molto probabilmente è perché il client di Word ha qualcosa che non va nessun problema potete provare la stessa cosa su Word Online ok in generale un po' come per Outlook Word Online PowerPoint Online Excel Online sono sempre diciamo con la versione più recente più aggiornate ok nel frattempo vediamo eccolo qua il PowerPoint che è stato generato dal mio diciamo dal mio documento in questo caso lui cosa ha fatto ha recuperato tutti diciamo le informazioni più importanti e poi vedi mi ha generato l'agenda la tabella addirittura con i working hour gli orari di lavoro i ritardi bla 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 come vedete qui c'è un punto di cui abbiamo parlato prima un piccolo problemino lui vedi mi ha fatto dei recap in italiano quindi il contenuto del PowerPoint è in italiano però i titoli sono in inglese mannaggia questo perché io ho questa diciamo questa versione ho fatto la cavolata di avere PowerPoint in inglese però fargli tutte le dargli tutti i prompt in italiano senza specificare scrivi bene in italiano in generale più fai prompt specifici e meglio il sistema ti dà il risultato ok questo è fondamentale volevo volevo provare vediamo un po' su microsoft 365.com per farvi vedere Word Online vediamo un po' se li funziona documento vuoto ecco qua copilot bene scrivi un documento di presentazione di un'offerta per un cliente partendo dalle informazioni del file e poi facciamo riferimento a un file in questo caso io gli dico demo internet italiano genera vedi qua me lo fa e allora come vi dicevo nei client dopo un po' si incricca è probabile io l'ho visto fare diverse volte ormai poco male o chiudete riaprite o usate il client web nessun problema vediamo in questo caso che cosa mi genera intanto rispondo a qualche domanda Matteo copilot può utilizzare le immagini di archivio di powerpoint e allora se intendi lo stock images quelli di microsoft si usa già quelle se intendi altre non so quali forse probabilmente la risposta è no poi anche in word posso fare riferimento a template aziendali o altri documenti guida a livello di layout mi pare di sì 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 i template valgono anche per word lì c'è la documentazione dateci un'occhiata Marco sarà possibile rivedere lo stream assolutamente sì come dicevo sarà presente o su internet o nel mio canale youtube e vedete di fatto qui mi sta generando il mio documento d'offerta fantastico partendo da un powerpoint quindi il caso proprio in doppia via quindi posso generare un powerpoint partendo da un file word oppure al contrario posso generare un file word partendo da un powerpoint e chiaramente anche su powerpoint non l'abbiamo visto prima ma funzionano tutte esattamente le funzionalità di richieste informazioni ok adesso ne apro un altro così per farvi vedere velocemente il funzionamento questa è la nostra diciamo area sono le nostre slide dimostrative dei nostri tool io qui li posso chiedere quali sono i prezzi di internet AI e lui cerca la slide con i prezzi e mi dà l'informazione ok questo è un po' il funzionamento e intanto rispondo ad un'altra domanda Michele esiste qualche versione di copilot integrata a viso studio per generare codice c'è si chiama copilot per github copilot adesso mi ricordo però c'è come prodotto mi piace github copilot si chiama è su viso studio e su viso studio code lo puoi utilizzare e vediamo un po' eh sì vedi qua mi ha trovato diciamo le informazioni ovviamente mi dà sempre il punto dove trovare l'informazione che lui ha trovato l'ultima cosa che vorrei far vedere oggi riguarda la chat perché abbiamo visto tutte le esperienze in app ok quindi su word su powerpoint non vedremo quelle di teams perché c'è poco tempo però sappiate che è fantastico durante un meeting vi potete beccare il recap e vi dirò che posso anche farvelo vedere datemi un attimo solo che vi faccio vedere un esempio di di una riunione con copilot attivo così vedete come come ha funzionato datemi un attimo che cerco la riunione giusta quando sarà stata allora 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 indietro eccola qua eccola qua questa è una riunione interna una volta che ho copilot acceso vediamo questa layout qui ovviamente per tutte le riunioni in cui faccio una registrazione in cui faccio una registrazione vedo il video qua sotto vedo i relatori vedo tutti i momenti in cui hanno parlato così che velocemente mi sposto da un momento all'altro e poi qua ho le note dell'intelligenza artificiale ok queste sono note che mi ha generato copilot partendo dal transcript in generale copilot funziona sia su riunioni dove fate partire la registrazione sia su riunioni dove fate partire solo il transcript almeno il transcript ci vuole ok e oltre alle note lui mi dà anche le attività una copia più bella è che faccio clic qua posso fare domande no su quello che è stato il contenuto del meeting vedete qua io gli ho chiesto chi ha deciso di sviluppare 15 nuovi componenti la decisione è stata aperta da Giuseppe e questo obiettivo sarà diciamo per il team di sviluppo guidato da Giorgio in effetti vedi poi lui mi dà la citazione di un punto del transcript in cui è stata detta questa cosa e secondo me per gli utenti che fanno tanti meeting tante registrazioni le minute di meeting copilot per Teams è fantastico fantastico e queste sono le funzionalità durante un meeting ci sono anche funzionalità di ricerca informazioni e supporto nella creazione di nuovi contenuti all'interno di chat private sia singole che di gruppo e a breve arriveranno anche nei canali ok nei canali di Teams però ecco vi volevo far vedere questa questa possibilità di usare poi la chat la chat è un po' il punto d'entrata diciamo un punto unico dove interagire con le funzionalità di copilot e integrate con i vostri dati in questo caso nella chat io posso riscrivere diciamo i messaggi mail che non ero riuscito a scrivere prima in questo caso vedi gli dico preparo un messaggio mail per Andrea chiedendogli una disponibilità per un meeting utile a presentare la nostra soluzione di micro learning descrivi brevemente il prodotto utilizzando le informazioni prese dal file in questo caso non ho il pulsantino per citare il file ma devo semplicemente fare click sullo slash e chiedergli un po' con una ricerca il documento da cui prendere queste informazioni io voglio da questo documento in questo caso lui legge il documento e mi prepara l'email con in più un bel pulsantino che mi dice guarda finisci di scrivere questi email in Outlook così poi la puoi anche mandare ok secondo me questa è una funzionalità molto molto carina ok che manca invece su Outlook su Copilot per Outlook ok e vedete qua no ha scritto la mail ha preso le informazioni dal documento e poi c'è questo tastino sia per copiare sia per andare in Outlook ok sempre da qua diciamo come vedete questa è l'interfaccia di chat di Copilot posso scrivergli nuove domande attenzione che ogni domanda che scrivete fa parte di una storia di domande e risposte che avete con Copilot questo da una parte è molto utile perché io senza ridirgli no tutto il prompt che gli ho detto prima posso dirgli fai no scrivi più contenuto informativo per spiegare per spiegare meglio la soluzione di microlearning ok quindi mi sto facendo un prompt che è legato alla risposta di prima ok questa è la history della chat e di lui capisce che prima aveva risposto in un modo attacca questo prompt alla risposta precedente e poi mi dà diciamo una nuova una nuova informazione ok chiaramente questo è molto utile e qui avete un massimo di 30 giri di domande risposte ok però ci sono anche dei casi in cui è meno utile per cui io non voglio che la history intacchi il risultato del mio prossimo prompt senza problemi faccio clic su nuova chat lui mi fa ripartire da zero e se faccio clic su questi tre puntini qua sulla chat di copilot vedo esattamente tutti le precedenti chat che io ho fatto e volendo le posso modificare quindi posso ripartire dal momento in cui l'ho lasciata la chat oppure posso cancellarle ok vediamo altri casi in questo caso di interazione con il mio calendario vi dico qual è il mio prossimo meeting con slash e qua non solo posso taggare dei documenti ma posso taggare anche delle persone ok in questo caso mi chiedo qual è il mio prossimo meeting con test user vediamo se se me lo recupera ecco vedi mi ha detto guarda il tuo prossimo meeting con lui è una demo che devi fare alle due e se fai clic su riferimenti mi dà proprio il link al calendario all'evento sul calendario e un altro prompt molto carino è aiutami a prepararmi per il prossimo meeting lui guarda nel mio calendario vedete anche in questo caso ho scritto meeting e non meeting ma l'intelligenza artificiale di adesso è molto intelligente e capisce che si parla di meeting anche se ho fatto un typo quindi se ho sbagliato a scrivere e lui guarda il mio calendario e vedi io devo fare una demo mi dice anche da dove prendere informazioni per questa demo fantastico cioè non solo mi ha detto che è una demo ma posso anche prendere informazioni da questi due file che di fatto sono i file che uso per fare le demo bellissimo un altro prompt può essere magari genera eccolo qua genera delle domande da fare da fare al mio cliente durante il prossimo meeting con qualcuno in questo caso sempre con test user sull'argomento sull'argomento micro learning ok qui mi va bene perché vedete la history contiene già informazioni sul meeting che io devo fare sul micro learning e quindi mi va bene lasciare tutto in questa chat però tranquillamente posso fare una nuova chat nel caso in cui io non voglio che le risposte precedenti vengano intaccate cioè intacchino il mio prossimo prompt ok e questo è un altro esempio va bene di interazione col calendario poi quali sono le ultime novità con cioè da Alessandra in questo caso organizzate per mail chat e file le parole chat mail e file sono molto importanti nella chat di copilot perché identificano chat le discussioni su teams mail vabbè i messaggi mail su auto che file sono i documenti i documenti ok e in questo caso vedi addirittura mi ha detto guarda Alessandra che da noi si occupa di vendite 20 minuti fa ha modificato un'offerta cavolo io ho anche il link per andare direttamente a vedere che cosa ha fatto poi ha mandato un'email e chiaramente non è che Copilot guarda su quello che sta facendo Alessandra per i fatti suoi ma chiaramente guarda le mail che Alessandra ha mandato dove io sono in copia oppure i documenti che sono su SharePoint dove io ho accesso oppure le chat tra me e Alessandra oppure le chat nei gruppi dove io e Alessandra siamo membri ok questo è un po' il diciamo il funzionamento della chat vediamo un'altra un altro prompt molto carino faccio una nuova chat dimmi tutti gli ultimi file in cui ho accesso che sono stati modificati in questa settimana e lui mi recupererà le informazioni le informazioni le recupera dall'indice di Microsoft 365 che contiene file che provengono da SharePoint da Teams perché sapete che sotto Teams c'è SharePoint oppure anche da OneDrive e in questo caso vedi mi dà informazioni anche di chi ha fatto diciamo modifiche per esempio cinque minuti fa cose di questo tipo e molto 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 carino ok vediamo un altro altri esempi per farvi capire questo concetto del contesto se io scrivo una domanda così mi fai sapere i prezzi di internet hai secondo voi mi risponderà no perché gli ho dato poco contesto lui sta cercando questa informazione all'interno di quella che è la sua conoscenza e in questo caso ah no ecco addio è stato anche super intelligente ha capito rispetto alle mie vecchie interazioni che ci sono diciamo questi prezzi e così via appresi dai documenti che ho citato prima e vabbè potevano farlo come esempio però ecco se faccio una richiesta su un argomento che lui non riesce a ricondurre a dei miei file devo cercare di essere il più preciso possibile quando faccio uno slash qua nella chat posso citare persone file oppure anche meeting o anche specifiche email ok e secondo me questo è una funzionalità molto molto utile per aumentare quella che è la produttività quotidiana faccio alcune ultime domande perché poi siamo arrivati alla fine posso far l'iditare training su tutti i documenti di un'intera cartella sì lo fa di default l'unica cosa che puoi fare è scegliere una document library di sharepoint da escludere escludere allora Cesare ho visto che ha una possibilità di interagire limitata nei confronti dei file di OneDrive ovvero non mi fa sfogliare le cartelle se di questo modo preciso chiede di operare su uno specifico file sì l'ho fatto vedere prima tu fai slash e poi cerchi il file se non lo trovi lo puoi linkare ok così lo puoi diciamo in completa autonomia andare a a gestire ok benissimo io direi che sono arrivato alla fine volevo farvi vedere altre cento robe tra cui l'architettura il prompt engineering ma siamo stati veramente in tanti oggi sono molto contento che eravamo così in tanti e mi avete riempito di domande quindi siamo andati un po' lunghi ma chiaramente seguito il mio canale YouTube per tutte queste informazioni così che rimanete aggiornati e i prossimi appuntamenti sono adesso ve li faccio vedere ok ci risentiamo il 6 marzo sempre le 12 per un webinar come abbiamo fatto oggi gratuito sapete li facciamo ogni primo mercoledì del mese parleremo delle novità di Microsoft 365 più domande libre e come vi dicevo su questi webinar l'argomento lo potete scegliere voi adesso oggi ho scelto io perché Copilot è appena stato lasciato per tutti e quindi volevo darvi l'informazione però tranquillamente potete scegliere voi i prossimi argomenti come fare a scegliere l'argomento semplice scannerizzate questo QR code vi fa aprire un form mi mandate l'argomento e io valuto quelli che sono più diciamo più utili per l'audience che segue i miei canali è molto molto importante per chi di voi vuole essere aggiornato su questi eventi basta iscriversi andate sull'indirizzo internet.ai slash join per iscrivervi alla newsletter vi inviamo solo le mail quando ci sono gli eventi niente di più e molto molto importante se volete diciamo un supporto per l'adozione a Microsoft 365 scriveteci o su internet.ai o su theforsight.com noi possiamo seguirvi dall'acquisto delle licenze siamo rivenditori di Microsoft dall'assessment per la sicurezza alla migrazione dei contenuti sul cloud di Microsoft fino alla formazione e sull'adozione abbiamo veramente tante possibilità abbiamo videocorsi meno di un minuto per usare tutte le funzionalità di Copilot proponiamo le community di pratica per aiutare i colleghi dopo la formazione i webinar formativi contenuti tipo la lista dei prompt più utili le FAQ che utilizziamo assieme ai video meno di un minuto per popolare e ingaggiare le persone all'interno della community di pratica veramente ne abbiamo tantissime idee da proporre questi sono i nostri contatti grazie grazie ancora per aver partecipato ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.